ma adesso abbiamo anche la nostra gentile ospite del venerdì del pomeriggio gender di Radio Padania a quest'ora arriva Anna Maria Pacchiotti, ciao Anna Maria Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te Sammy Uganda è un paese particolare perché ha un ottimo presidente che ha messo al bando la sodomia e il matrimonio omosessuale quando specialmente ha ascoltato Benedetto XVI quando diceva che l'Africa non sarebbe uscita dal virus delle HIV attraverso il condom e la scienza gli ha dato ragione perché poi pare che i scienziati hanno detto che è vero perché là arriva la peggior qualità oltretutto quindi l'ode ai oeri museveni che ha messo al bando la sodomia e il matrimonio omosessuale non solo ma li sbatte anche in galera la democrazia a volte rovina proprio quello che è lo stile di vita delle persone normali e quindi noi dobbiamo continuare ad accettare tutti i gay pride grazie Anna Maria Pacchiotti a venerdì prossimo